Buonasera a tutti, a InterSolar Panasonic Solar presenta il nuovo modulo Heat Plus con caratteristiche tecniche davvero innovative. Abbiamo su questo modulo le celle fotovoltaiche realizzate da Panasonic nei stabilimenti giapponesi, quindi sono delle celle fotovoltaiche made in Japan, un modulo fotovoltaico sempre della serie Heat, che chiamiamo Heat Plus con un'efficienza superiore al 20.3% e continuiamo ad offrire la stessa garanzia di 25 anni.